Martedì le scuole saranno regolarmente aperte. A Urbino il peggio sembra essere passato dopo la fitta nevicata della notte scorsa. Disagi soprattutto alla circolazione nonostante le scuole chiuse. Attualmente le strade sono tutte percorribili. Nelle prossime ore sarà completato il lavoro per liberare piazzali e accessi alle sede scolastiche. Dal tardo pomeriggio al lavoro anche i mezzi spargisale per prevenire la formazione del ghiaccio. Mezzi che dopo la sosta notturna saranno nuovamente in attività prima dell'alba di domani. La nevicata prenatalizia ha interessato anche la costa da Gabicce ad Ancona e naturalmente tutto il settore collinare e montano della regione. Molti invece gli interventi per piante cadute o inclinate sulla carreggiata a causa del peso della neve in molte strade provinciali nel Pesarese. A Candelara sulla Pesaro-Mombaroccio e sulla 44 panoramica del San Bartolo. Problemi anche alla rete elettrica in particolare sulla provinciale 143 del Cairo dove un ramo è caduto su un palo della luce. Sono dovuti intervenire i tecnici dell'Enel per ripristinare il servizio. Nella zona di Pesaro dalle due alle tre del mattino sono entrati in azione 11 mezzi sgombra neve. Sul Catria e sul Nerone si sono registrate nevicate su tutto il territorio a partire dalla serata di ieri e anche in mattinata nella zona alta e nei fondovalle. In montagna sono stati segnalati molti problemi per piante e rame caduti sulla strada o inclinati. Tutti i cantonieri addetti al settore sono stati impegnati nel taglio delle piante. Qualche polemica invece nei confronti di quelle amministrazioni che hanno annunciato la chiusura delle scuole con scarso anticipo e magari solo utilizzando il canale di Facebook. Per il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci è scontato che le scuole siano aperte se non viene comunicata la chiusura sui canali ufficiali e ammette come fai ne manca sempre un pezzo. Intanto le previsioni per domani mettano bel tempo con il sole che tornerà a splendere su gran parte della regione e temperature in leggera ripresa. Ma l'inverno è ancora lungo.